Scusate l'abbigliamento ma vado praticamente di fretta Oggi e domani praticamente si laureerà Chiara in giurisprudenza E volevo portarvi con noi in questi due giorni Oggi ci sarà la festa di laurea più casual E domani ci sarà la vera e propria presentazione dei laureati Non so come chiamare questa cosa in italiano Però ci saranno praticamente due feste Quella di oggi che è venerdì e quella di domani che è sabato Quindi il video si dividerà in due parti Nella prima parte vi mostrerò quello che accade durante le due feste E poi ci sarà una seconda parte in cui io e Chiara praticamente Io intervisterò Chiara in cui vi dirà i consigli E vi racconterà la sua esperienza Ma andiamo Adesso andiamo E' anche successo un piccolo casino Mi sono addormentato prima sugli occhiali da vista Quindi praticamente posso utilizzare solo questi da sole Che fortunatamente sono graduati Adesso prendiamo Uber anche perché sono in ritardo E quindi andiamo da Chiara E buona visione Omar Sì Come ti? Bene Come ti va? Bene, come ti va? Bene, grazie Bene, ti va a 17 West 53 Sì, sì Buongiorno Oggi è il secondo giorno Mi sto preparando Questa è la cosa più elegante che ho portato purtroppo E sto aspettando che si sveglia la proprietaria di casa Perché devo stirare la camicia che ho fatto alla lavatrice Non ho avuto il tempo di riordinare la camera Ho messo tutto lì Ma devo stirare la camicia che è la camicia più adatta per l'occasione Perché questa qui è così così Stiro la camicia e vado da Chiara Niente, ci vediamo fra poco Che dite? Sembro un po' elegante anche se ho il jeans e le scarpe da ginnastica Che poi da ieri si era iniziato pure a piovere E io sono arrivato anche, diciamo, nella zona commerciale Perché ieri le ho ordinato un mazzo di fiori Ma è andato a ritirarlo la sorella di Chiara Quindi li porterà direttamente all'università E ovviamente dopo la festa le regalerò questi fiori Adesso vado da lei e poi ci dirigiamo verso la scuola Oh, let's freeze time Gather around, watch the sun go down Oh, in summertime Soaking up the sun Cruising around in this crazy town Oh, just you and I Just you and I Noi arriviamo e inizia a piovere Quindi Laura, Laura bagnata Laura fortunata Sì Sì Tadà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati giorni stressanti, Chiara ha avuto l'influenza dopo la laurea, io sto preparando le ultime cose perché siamo agli sgoccioli, sto per ripartire per l'Italia, quindi siamo per completare tutto. E adesso facciamo delle domande a Chiara sulla laurea, sulla sua esperienza e magari potete trarne dei consigli utili per voi. E' durissima la farina. Che consiglio daresti a chiunque voglia intraprendere questo percorso, quindi laurearsi in America? Premettendo che Chiara sta studiando in Italia e ha la sapienza e sta studiando appunto giurisprudenza, però si è laureata prima qui in America dopo un'esperienza di exchange students, una sorta di Erasmus in poche parole. Che consiglio daresti a chiunque voglia laurearsi qui in America come hai fatto tu? Fatelo! No, beh, a parte il fatto che qua è iniziato tutto per caso, nel senso che, come diceva Arcangelo, il mio percorso è qua iniziato come exchange student, quindi non è iniziato come un completamento di studi qua con la laurea, che serve una specialistica, quindi non è una base. Però il mio consiglio è che nel caso in cui si presenti a voi un'occasione di studiare all'estero, che sia in Europa o fuori in Europa, e la unica vostra incertezza e la paura che, insomma, voi avete per questo percorso, superate la paura perché avreste, secondo me, dei rimpianti dopo per non averla fatta. E io sono abbastanza convinta che anche nel caso in cui io non userò, insomma, in futuro questa specialistica, comunque serve a voi per il vostro vissuto, per la vostra cultura. Anche come esperienza di vita. Esatto, vale tutta l'esperienza, tutti i sacrifici, tutti i soldi, tutto speso per quello che, insomma... E' una cosa che vorrei aggiungere io, se vuoi, diciamo, è comunque uno sforzo economico venire qui in America, però se potete fare dei sacrifici, anche come abbiamo fatto noi due, se potete fare dei sacrifici, cioè evitare di fare tante cose, dei viaggi con gli amici o eviti di andare in palestra, metti da parte. Spesso, quando le persone vedono dei studenti che vanno in America a studiare, pensano subito che loro si divertino, insomma, che loro hanno... sono ricchi, siano ricchi e cose del genere. Invece no, perché io, per esempio, tutto quello che ho fatto in tutto questo tempo è stato essenzialmente studiare. Io non, praticamente... Hai evitato di andare a discoteca, di uscire, cene fuori. Cene fuori, non faceva assolutamente nulla, cioè io l'America l'ho vissuta per lo studio, ed è anche un po' palloso, voi direte, no? Però, per le spese che io dovevo fare... Ci sono stati anche dei sacrifici per pagare le tasse, no? Esatto, erano lo scopo dello studio, erano lo scopo del divertimento, quindi... L'investimento per il futuro. Esatto, molti miei amici, per esempio, quando mi contattavano mi dicevano, ah, beata te che sei là a divertirti. No, non mi stavo divertendo, stavo studiando. Mi ha fatto tutt'altro che divertirti. Non mi divertivo assolutamente, non facevo altro che studiare e lavorare, quindi... Sì, anche perché, come abbiamo detto nel video precedente, lei ha lavorato qui pur di mantenersi... Diciamo, esatto, perché... ...in qualche modo qui in America. E poi i sacrifici si devono fare, se uno vuole raggiungere il rischio. Quali sono i sacrifici più grandi che hanno contraddistinto questa tua esperienza? E quindi potrebbero poi in futuro... Vabbè, essenzialmente il primo, penso, innanzitutto è quello di stare lontano da casa, nel senso che la paura e la difficoltà per tornare a casa comunque ci sta sempre. Poi il pensare che è quasi praticamente impossibile tornare in tempo, qualsiasi cosa succede a casa, fa paura comunque alle persone. Secondo, il secondo sacrificio penso che sia appunto la vita sociale, perché per quanto io sia uscita comunque con i miei amici, che insomma mi sono creata, con le amicizie che mi sono creata qua, però non c'è mai stata quella vita sociale che comunque magari io facevo a Roma, mentre studiavo... Come nella tua città natale. Esatto, oppure nella mia città natale, non c'era questa vita sociale che avevo prima, perché appunto tutto era prefissato per quell'obiettivo. Cioè tutto era... Praticamente uno si prefissa l'obiettivo di laurearsi qua e ovviamente in base alle proprie possibilità economiche poi si distrigge nella vita sociale. Ma penso che per tutti, no? Ultima domanda. Qual è la cosa più importante che, diciamo, ha segnato questa tua esperienza e che ti porterai comunque nel tuo bagaglio culturale? La più grande, quella che... Aspetta, la più grande cosa? Esperienza. La più grande esperienza. Ok. Non tanto il fatto della laurea in sé, quanto invece per le conoscenze che mi ha portato e quindi le conoscenze dei professori, che siano... Diciamo networking. ...conveni di classe, sì esattamente. Perché comunque tutte le persone che frequentavano questa specie di programma, che appunto è una specie di sé, quindi c'erano persone abbastanza grandi... Già avvocati, insomma, erano già... Alcuni giudici hanno. Erano già dei professionisti, quindi... E' stato bello interagire con queste persone che comunque, nonostante abbiano una diversa cultura, insomma, della tua... Sono anche grandi, sono anche, diciamo, hanno... Sono anche... Hanno delle esperienze. Quindi era anche bello per questo. Cioè, non la varia in sé, perché comunque è un momento piccolo, insomma, abbastanza veloce. E... Questo. Esatto, quindi... Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Volevamo portarvi con noi questa esperienza. Sì, anche perché non mi andava. Abbiamo trascinato questo video per un po' di giorni. Ma perché Arcangelo ha questa cosa che... Allora, a te piace fare video. Io avevo iniziato a fare dei video, però il fatto... Il fatto di... Di mettersi là, davanti alla videocamera... All'inizio è stressante, poi ti ci evitui. Esatto. Comunque, se avete altre domande a riguardo, volete partire per l'America, volete studiare anche qui a Kansas City, Contattatela su Instagram, vi risponderà. Oppure potete lasciare un commento qui sotto e Chiara risponderà anche qui. Ogni tanto andiamo a fare un check insieme e risponderemo ai commenti sotto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, la settimana prossima. Forse ci sarà un altro video dall'America, altrimenti ci vediamo in Italia. Ciao!